Chi le ha inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo scattano le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite e poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni c'hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato, si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schia all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Loro stanno chiusi ma, alla prima opportunità, salgo subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Da queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi, siamo rimasti uniti, senza fotterci mai, sull'amicizia e sulla lealtà, ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni c'hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato, si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schia all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Loro stanno chiusi, ma, alla prima opportunità, salgo subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu, le New York Yankees quello lì sei tu, mi sa che anche al cesso, te lo tenevi su. E quella nella foto accanto a te, non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva, scegli io loro o me. Quanti in questi anni c'hanno deluso, quante c'hanno preso e poi di peso ci hanno buttato, si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoffa un sorriso e dice, noi abbiamo capito, tutto è un po' come nel calcio. È la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo, noi non moriamo mai, loro stanno chiusi, ma, cosa importa a chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi. Sì! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.